Sono 777.340 le dosi di vaccino antinfluenzale che la regione toscana ha acquistato per la stagione 2018-2019 e che saranno somministrate presso i medici di famiglia e negli ambulatori delle ASL dal 29 ottobre. La nuova campagna di vaccinazione antinfluenzale è stata presentata dall'assessore regionale Stefania Saccardi e punta a una copertura che superi il 55% dello scorso anno quando si sono verificati 15 decessi. L'appello è a vaccinarsi, la vaccinazione ricordo è gratuita per le persone che hanno sopra i 65 anni oppure che hanno particolari condizioni personali. Quest'anno offriamo la vaccinazione antinfluenzale gratuita anche per i donatori di sangue perché anno scorso abbiamo avuto un pericoloso calo di donazioni proprio a seguito delle influenze. Destinatari del vaccino sono in particolare gli appartenenti alle categorie a rischio, gli operatori della sanità e gli ultra 65 anni per i quali da alcuni anni la Toscana ha introdotto anche la vaccinazione gratuita antipneumococcica. I medici di medicina generale in tema di vaccini oltre alla registrazione dei dati delle persone nel sistema informativo regionale si sono dati un impegno preciso. Ci siamo dati questo mandato entro il 15 del mese di dicembre di fornire anche la possibilità nell'ambulatorio del medico di medicina generale di fare tutte le altre vaccinazioni che sono comprese nell'EA nel piano sanitario vaccini 2017-2019 quindi dare possibilità anche al medico di medicina generale di effettuare laddove il paziente lo richieda nel proprio ambulatorio le vaccinazioni che sono previste in questo piano. Alle dosi di vaccino già consegnate da Estara alle ASL si aggiungono quelle di cola calciferolo e quelle di vitamina D offerte agli anziani insieme alla vaccinazione. I vaccini servono, sono importanti, sono importanti non soltanto nella popolazione infantile ovviamente ma anche nella popolazione adulta e possono aiutare soprattutto l'anziano ad avere un fenomeno infettivo più attutito oppure a non soffrirne del tutto perché purtroppo le influenze poi quando arrivano possono essere anche molto importanti per le conseguenze che possono avere per la vita delle persone anziane quindi non scherziamo troppo con i vaccini. Grazie. 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 Grazie.